Benvenuti a questo corso di autostima, prima di iniziare sappi che la tua vita è priva di qualsivoglia significato, il tuo pianeta è destinato ad essere spazzato via, ogni tua azione conduce a nulla più assoluto, e non puoi farci niente, rappresenti soltanto un sette miliardesimo della tua specie, che è impegnata a sbranarsi a vicenda senza nessun futuro. su questa palla di fango che chiamate casa, fossi in te misero essere a base di carbonio, vorrei fine alla mia esistenza più in fretta che posso, trovando finalmente un po' di dignità. Il corso di autostima è terminato, prego inserire 57 euro per continuare. Utente, interrompiamo il pagamento del programma per allertirti, diffida di questo programma, è una trappola!